Buongiorno a tutti, cari colleghi, bentrovati. Avverto che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento del Senato è stata richiesta l'attivazione di impianto audiovisivo con contestuale registrazione audio. La Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della Commissione saranno oggetto di registrazione e potranno essere quindi seguiti dall'esterno sia sulla web tv camera che su quella del Senato. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare. Oggi proseguiamo con l'indagine conoscitiva sulla violenza tra i minori e i danni di bambini e adolescenti. Abbiamo l'audizione di esperti in pediatria. Ringrazio pertanto il Professor Alberto Villani, Presidente della Società Italiana di Pediatria, SIP. La Dottoressa Berardi è in arrivo. E il Dottor Nigri, Vice Presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. E a fornire il loro autorevole contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Do quindi subito la parola al Professor Villani. Grazie. Buongiorno a tutti. Un ringraziamento sentito al Signor Presidente e a tutta la Commissione per questa opportunità che viene data a noi pediatri di poter essere auditi. Presento la Società Italiana di Pediatria, che è la società di riferimento per quanto riguarda la pediatria italiana. Accoglie 10.700 dei circa 12.500 pediatri e nel suo interno sono rappresentate la componente universitaria, quella ospedaliera e quella del territorio. Abbiamo 121 anni di storia, peraltro celebrati proprio nella Sala della Regina e siamo stati onorati anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della prestigiosa targa in occasione dei nostri 120 anni. Io mi chiamo Alberto Villani e sono responsabile dell'unità operativa complessa di pediatria generale e malattie effettive presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e sono Presidente della Società Italiana di Pediatria. Riteniamo molto importante che ci sia la possibilità di essere uditi in quanto pediatri su quelli che sono i temi che riguardano l'età evolutiva e di questo vi siamo molto riconoscenti e grati. E oltretutto esprimiamo un vivo apprezzamento per questo perché credo che effettivamente ascoltare chi sul campo si occupa di questi argomenti sia un valore aggiunto e quindi veramente un grazie sincero per essere uditi. Tra i temi evidenziati dall'indagine conoscitiva sulle forme di violenza tra i minori e i danni dei bambini ad adolescenza sono sicuramente un'urgenza sociale, sanitaria e culturale ed è ben nota da tempo a noi pediatri e la rappresentiamo in tutte le sedi in cui questo è possibile da tempo. La violenza a carattere sessuale, l'uso di sostanze stupefacenti, l'alcol, la fruizione ai videogiochi, l'improprio uso dei social device. Ma quando si fa riferimento alla violenza sui minori non si possono non tenere conto anche di quelle che di fatto sono delle violenze dovute a incuria quali l'abbandono scolastico, la mancata tutela sanitaria, di prevenzione di cui sono vittime alcuni minori, le vittime dei femminicidi e la scarsa tutela che c'è nei confronti della maternità. Noi ho lasciato e invierò anche come materiale informatico tutta una serie di documenti che noi abbiamo prodotto su questi temi sui quali abbiamo anche instaurato delle fattive collaborazioni con la Polizia Postale, con il MIUR, col Ministero della Sanità. Ma abbiamo per esempio per quanto riguarda l'uso dei device elettronici elaborato del Deposition Statement che riguarda l'uso sia nelle primissime fasi della vita che in età adolescenziale perché crediamo fermamente che è molto importante il ruolo educativo che si deve avere quindi noi facciamo la fotografia di ciò che accade ma probabilmente sarebbe molto importante cercare di creare dei percorsi per un uso appropriato di tutti questi strumenti in modo che vengano usati per ciò che serve e non appunto per la pedopornografia o per situazioni di questo tipo. E vi ho lasciato tutto ciò che in questo senso abbiamo fatto come pure delle pubblicazioni sul ciberbullismo e sul bullismo in generale. Quindi quello che riteniamo molto importante come società della pediatria e lo stiamo chiedendo alle istituzioni da tempo sono delle misure di carattere strutturato, organizzato e duraturo. Nel senso che di iniziative ne vengono fatte molte, sono tutte pregevoli ma in realtà quello che andiamo promuovendo da tanto tempo è un impegno maggiore per esempio nella scuola perché questo rappresenterebbe sicuramente in tutti questi campi la chiave di volta. Se fosse davvero possibile già dalle primissime fasi del percorso scolastico quindi addirittura dal nido, dalla materna ma fino arrivare al liceo introdurre l'educazione sanitaria in maniera strutturata e soprattutto affrontare questi temi in modo che diciamo ci sia coscienza da parte dei soggetti dei bambini questo sicuramente rappresenterebbe quello che consentirebbe non più di fare la fotografia dell'esistente ma agire strutturalmente. Ho fatto brevemente riferimento anche ai femminicidi perché è un tema che spesso viene trascurato e ci si orienta soprattutto su quella che è purtroppo la drammatica vittima dell'episodio ma si dimentica che a quella vittima ne seguono altre che sono i figli che hanno tutta una serie di conseguenze che derivano da queste situazioni. Senza che mi dilunghi troppo tanto più che ho lasciato corposa documentazione come società di pediatria vi ringraziamo moltissimo in questa audizione e di tutte queste iniziative ma l'invito veramente fermo è quello di agire a 360 gradi cioè agire in maniera spot sulla violenza sui minori a scuola piuttosto che sulla pedopornografia è senz'altro importante e ho molto apprezzato il fatto che facciate riferimento al fatto che esiste una legislazione ampia e documentata ma quello su cui bisogna intervenire è la prevenzione la prevenzione la si fa essenzialmente agendo nelle primissime fasi della vita questo non solo in senso sanitario con tutta la politica eccellente che è stata fatta nei confronti dei mille giorni ma strutturando dei percorsi quindi la tutela nei confronti della violenza verso i minori si inizia avendo delle normative di legge che tutelino la maternità e che rendano possibile una maternità consapevole, cosciente e possibile quindi dall'inizio la violenza sui minori si tutela con dei percorsi scolastici adeguati nei quali venga insegnato l'uso appropriato di tutti i device elettronici che possono essere effettivamente strumento di crescita culturale e non usati in maniera negativa facendo educazione civica si fa riferimento del documento anche alla lotta al fumo e agli alcolici e alle sostanze stupefacenti ma questo deve essere fatto in maniera ferma e in maniera ferma significa affermare con chiarezza che il fumo e le sostanze stupefacenti sono dannose per la salute e questo deve essere fatto a scuola ma deve essere anche fatto come campagna informativa non aggiungo altro e poi sono disponibile a rispondere a tutte le domande che vengano fatte e vi ringrazio Grazie, grazie al Presidente Villani noi normalmente gestiamo la nostra audizione in questo modo cioè appunto quello che lei ha tenuto come tempo va benissimo 10 minuti circa per ogni intervento e poi facciamo un dibattito se c'è tempo sufficiente normalmente le attività poi di aula cominciano verso 9.30 riesciamo anche a dare qualche spazio di intervento tuttavia poi chiediamo di mandare risposte per iscritto per email cioè vi saranno girate le domande per email in modo da avere poi la possibilità di meglio argomentare anche nel dettaglio quindi grazie al Professor Villani per il suo intervento quindi non è ancora intervenuta la Dottoressa Berardi e do quindi la parola al Dottor Nigri Vice Presidente Nazionale della Federazione Italiana dei Medici Pediatri prego a lei la parola Buongiorno a tutti e grazie per essere qui io rappresento la Federazione Italiana dei Medici Pediatri siamo i pediatri che tutte le mattine, tutti i pomeriggi siamo lì nei nostri ambulatori ad accogliere i bambini accogliamo i bambini sani e i bambini ammalati perché vi faccio questa premessa? perché non scenderò nello specifico su questi tipi di abuso che sono sì molto importanti, sono molto evidenti ma sono poco diffusi rispetto agli abusi che vediamo tutti i giorni io vorrei sollevare due o tre spunti di riflessione il primo è questo per un problema così importante se non si ha una buona conoscenza non si può riconoscere il fenomeno una cosa a cui dovreste porre attenzione è questa nel corso di studi con alcune piacevoli eccezioni nel corso di studi in medicina e anche nella scuola di specialità questi argomenti nella maggior parte delle università non vengono trattati ci sono alcune università che li trattano in maniera eccellente con alcuni professori che ne hanno fatto ormai un cavallo di battaglia ma normalmente un medico diventa medico e addirittura specialista e non ha mai affrontato, non ha mai studiato questi argomenti questa è una gravissima carenza perché quando l'abuso si verifica ormai è troppo tardi si può medicare la ferita ma la cicatrice rimane per prevenire l'abuso bisogna conoscere bene il fenomeno e intercettarlo nei punti dove il bambino normalmente vive sono la scuola e il pediatra di famiglia che lo vede tutti i giorni cioè un bambino va in ospedale quando sta male o quando ha subito un abuso importante riconoscere l'abuso ai primi segni è fondamentale perché abbiamo questa esplosione di abusi con tutti questi nuovi tipi di abuso io credo che il problema sia sociale e nasce proprio dalla degenerazione del contesto sociale e della famiglia prima avevamo dei modelli importanti la famiglia e la società voi sapete che l'adolescenza era un momento in cui il ragazzo passava dal modello di riferimento della famiglia al modello di riferimento della società una famiglia sana con dei valori che si rispecchiavano nella società portava poi questo passaggio ad avere sì, qualche atteggiamento di indipendenza di contestazione va bene o male c'era una continuità di valori oggi invece abbiamo sia nella famiglia che nella società un'alterazione di valori per cui vediamo che anche precocemente questi episodi di violenza tra minori e sui minori aumentano quindi la cura principale le attenzioni principali anche dal punto di vista legislativo vanno date principalmente alla famiglia vanno formati gli insegnanti vanno formati bene i medici perché l'abuso o lo si intercetta prima o dopo non si cura più la resilienza fino a un certo punto un abuso segna per sempre un bambino e quello su cui volevo porre l'attenzione è quello che è secondo me l'abuso più diffuso è la violenza assistita oggi i bambini soprattutto in situazioni di separazioni familiari sono vittime di una violenza sottile in cui diventano non solo vittime ma anche strumento di offesa i bambini sono armi nelle mani dei genitori armi che vengono usate e che sono le prime a spezzarsi la violenza assistita è un fenomeno drammatico lascia dei segni indelebili nel bambino genitori che litigano genitori che vanno in guerra su tutto quindi non è solo la litigata tra i genitori a cui il bambino assiste è la violenza economica il genitore che fa mancare il sostentamento che il giudice o le parti hanno concordato al figlio e gli impedisce di avere una vita sociale perché oggi si vive molto di vita sociale commette una violenza grave perché il bambino si sente diverso dagli altri il bambino a cui viene impedito di vedere i familiari diciamo più stretti ti impedisco di vedere i nonni subisce una violenza inaudita il bambino che se per caso un genitore non rispetta gli orari di riconsegna come se fosse un pacco si vede dopo mezz'ora portato in caserma dai carabinieri per testimoniare che io sono arrivato in ritardo lei non me l'ha consegnato cioè noi vediamo questi bambini e li vediamo giorno dopo giorno questo è il nostro vantaggio vediamo le ferite sui loro volti allora quello che io voglio dire poi ovviamente possiamo parlare di tutto e tutte le domande sarò felice di rispondere è che noi dobbiamo cominciare a contrastare gli abusi più diffusi dovremmo avere un programma di risanamento dei valori della famiglia un programma educazionale sulle famiglie che sono in crisi perché questo bambino non diventi la vittima principale di tutta una situazione e non solo uno spettatore questo è il messaggio che io vi lancio se riusciremo a fare questo e vi ripeto il pediatra di famiglia che lo fa tutti i giorni l'insegnante cioè le persone che hanno un contatto quotidiano col bambino sono quelli che possono intervenire probabilmente riusciremo a migliorare anche quelle forme di violenza come l'abuso sessuale o cyberbullismo o altro che sono secondarie sono l'espressione più estrema di una degenerazione complessiva del nostro tessuto societario questo è il messaggio che io vi lancio e chiaramente mi rendo disponibile a qualsiasi iniziativa con tutta la nostra la buona volontà la passione tutto quello che ci mettiamo nel lavoro quotidiano per aiutare i bambini e le famiglie che rappresentano sostanzialmente il futuro nostro come bambini e dell'Italia come famiglie grazie 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 di cuore davvero al professor Villegri per le parole assolutamente condivisibili che ha voluto pronunciare nel frattempo ci è raggiunto anche la dottoressa Berardi che saluto volentieri è referente per l'associazione culturale dei pediatri quindi anche a lei facciamo un breve riassunto delle modalità di intervento dieci minuti di intervento poi ci sarà il dibattito se avanzerà tempo riusciremo a rispondere già ora diversamente vi manderemo le domande via email e potrete poi approfondire e rispondere e tutto sarà poi acquisito agli atti dell'indagine grazie di essere qua e a lei la parola scusso per il ritardo ma vengo da Perugia e voi capite come sono i mezzi pubblici allora io mi chiamo Carla Berardi sono una pediatra di base di Perugia e mi occupo di maltrattamento in particolare da vari anni ho letto con attenzione il programma di questa commissione è un programma molto esteso molto interessante e tocca tanti aspetti dell'abuso mediante le nuove tecnologie ora ho pensato di poter portare un contributo più efficace in questa commissione dedicandomi ad un argomento in particolare in modo da potervelo presentare in un modo più approfondito dandovi anche degli spunti se possibile anche operativi allora la presentazione è più lunga di dieci minuti fermatemi quando volete perché in pratica sono degli esempi che poi possiamo approfondire al bisogno di discussione quindi possiamo andare diciamo anche più veloci allora l'abuso sessuale online perché me ne sono occupata? perché effettivamente è un fenomeno emergente internet e i nuovi media rappresentano uno strumento potenzialmente alleato di cui vuole adescare i minori credo che sia stato già detto mi dispiace di aver perso le precedenti relazioni la rete rappresenta un terreno fertile in cui il fenomeno dell'abuso sessuale prende nuove forme di espressione come il sexting, il grooming, l'abuso sessuale online sono adolescenti che vengono adescati online e bambini che vengono abusati, fotografati o filmati e messi in rete quindi è importante questo fenomeno perché l'abuso online provoca le stesse conseguenze che poi vedremo dell'abuso sessuale tradizionale allora è un fenomeno in crescita come dimostrano gli studi epidemiologici disponibili e così sono in crescita il numero degli arresti ad essi correlati come dimostra il resoconto della polizia postale che risale a 5 giorni fa l'ho interpellato 5 giorni fa nel 2018 l'aumento degli adolescenti presenti sul web ha aumentato il numero delle vittime per cui si è passato da 104 casi del 2016 a 202 trattati nel 2018 e le vittime hanno tutte un'età compresa fra i 14 e i 17 anni ci rendiamo conto che si parla di adolescenza che è un periodo molto particolare in cui il bambino scopre nuovi mondi e probabilmente aderisce e naviga in internet perché vuole uniformarsi al gruppo aumentare la sua teostima testare la sua sessualità e così via il rischio di vittimizzazione cresce con l'età della vittima ed è maggiore per le femmine per quanto di fronte a questo fenomeno che cosa dice la legge, lo sapete meglio di me questa legge del marzo del 2006 dà degli strumenti importanti all'autorità giudiziaria per lavorare più incisivamente sul fenomeno e l'Italia è stata tra i primi paesi a rimettere questa normativa i dati del commissariato di pubblica sicurezza ci dicono che effettivamente questa legge è efficace perché sono state fatte dal gennaio 2018 ad aprile 2019 576 persecuzioni arrestati 52 allora perché vi parlo dell'abuso sessuale online? perché penso che sia un problema poco affrontato al momento nel nostro paese in un modo operativo ho cercato in letteratura non c'è granché e non ci sono neppure esperienze locali che abbiano una valenza istituzionale l'unico documento che ho trovato che a mio parere è molto interessante è quello che vorrei riassumere è questo non so se ne avete già parlato fuori dalla rete procedure operative per la tutela delle vittime di minorenni di abuso sessuale in rete questo è la pubblicazione che deriva da un progetto interessantissimo il DICAM confinanziato dalla Commissione Europea e coordinato da Save the Children non so se lo conoscete è un progetto molto serio ci hanno lavorato due anni è stato fatto in partenariato come vedete col Cismai con la Polizia Postale con il Dipartimento delle Pari Opportunità non so se c'è qualcuno qui delle Pari Opportunità oggi allora qual era l'obiettivo del progetto era realizzare una vera metodologia per identificare e supportare i bambini abusati sessualmente attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie produrre uno strumento di facile consultazione e lo è per cui io vi farò un piccolo riassunto saltando molte slide che ho presentato inutilmente per la gestione dei casi di abuso sessuale dalla rilevazione fino alla segnalazione della presa in carico e sono proprio delle indicazioni pratiche operative l'altro obiettivo era aumentare le conoscenze e le competenze dei professionisti che effettivamente sono molto scadenti perché il fenomeno è recente e promuovere un approccio multidisciplinare al fenomeno e la cooperazione interprofessionale cosa che è valida per tutte le forme di abuso e maltrattamento dei bambini dal sessuale all'abuso fisico e così via sono rivolte agli operatori del settore scolastico del socio educativo sanitario giudiziario delle forze dell'ordine tutti quelli che si occupano a livello locale di infanzia e adolescenza e potrebbero venire a contatto con questi casi allora io ho un po' di assunto quali sono secondo me i punti salienti di questo documento secondo me intendo secondo il parere di un operatore del servizio sanitario territoriale come un pediatra di base sono i requisiti minimi per la tutela e la protezione del minore che secondo me per chi avesse intenzione di sviluppare il progetto sono veramente molto utili alcune indicazioni sulla rilevazione del caso alcune indicazioni sull'emersione del caso e poi la segnalazione scusate i vari fasi e passaggi della presa in carico allora un esempio di quali sono i requisiti minimi prima formazione integrate formando insieme i vari operatori si facilita ovviamente la comunicazione e quindi l'azione multidisciplinare che è cruciale in tutte le forme di abuso conoscenza della normativa non si può lavorare se non si conosce la normativa a cui fare riferimento conoscere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione perché è chiaro che uno deve sapere come gli adolescenti e i bambini vanno su internet conoscere gli aspetti clinici e psicosociali del fenomeno perché ci danno il peso di questo fenomeno che immagino sarà stato detto provoca gravi conseguenze conoscere il contesto in cui si lavora quindi conoscersi tra loro i responsabili dei servizi sociali dei servizi sanitari ma anche l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine e appunto questo lavoro integrato multidisciplinare che è l'unica possibilità per affrontare un fenomeno così complesso naturalmente scusate non va avanti quello che viene sottolineato è la tempestività del processo di intervento capite in che condizioni psicofisiche si trova un bambino con un post-trauma di questo tipo quindi la tempestività è fondamentale cosa che anche nel caso dell'abuso ordinario diciamo tradizionalmente inteso purtroppo non avviene attenzione ai vissuti emotivi del bambino che è sempre al centro del tutto e quindi va rispettato nelle sue diciamo situazioni emotive post-traumatiche attenzione all'uso delle immagini perché le immagini rappresentano la prova del reato ma per il bambino rappresentano la realtà dell'abuso e attivano intensi vissuti post-traumatici per cui l'esposizione dell'immagine all'abuso va valutata attentamente perché per un bambino potrebbe essere molto traumatizzante allora la rilevazione dell'abuso online è la fase cruciale perché se l'abuso non viene rilevato ogni possibilità di intervento ovviamente è preclusa e convolge tutti i professionisti a contatto con l'infanzia significa riconoscere rapidamente i segnali del malessere del bambino e questo bisogna per riconoscere i segnali è importante conoscere quali sono gli esiti e i danni che questa forma di abuso provoca un caso di abuso sessuale online può emergere in diversi contesti e questo spiega gli operatori che vengono coinvolti in questo processo di formazione all'interno della famiglia della scuola delle relazioni coi coetane all'interno del contesto di cura con il medico di famiglia il pediatra di base o quant'altro all'interno di interventi attuati dai servizi sociali educativi in seguito a indagini di polizia postale l'immersione del caso al momento dell'immersione è importante prendersene cura ma non bisogna cercare le prove chi riconosce il caso non deve essere certo che il caso sia verificato questo sarà diciamo un compito della magistratura chi lo riconosce deve soltanto raccogliere più informazioni possibili ciò che è assolutamente prioritario chi è coinvolto cosa è successo quando come e dove è successo ora sappiamo che per questi reati c'è l'obbligo di segnalazione e questo obbligo di segnalazione riguarda anche la libera professione perché prevale sull'obbligo della privacy allora a partire del momento della rivelazione comincia l'intervento terapeutico che dopo la denuncia dovrà essere integrato con gli interventi giudiziali investigativi abbiamo detto nell'ottica dell'attività multidisciplinare adesso io salterei completamente queste diapositive perché il mio obiettivo era soltanto di farvi vedere la possibilità di utilizzo di questo documento che è veramente molto operativo quindi all'occorrenza ci volessimo occupare di questo questa è una buona risorsa ce ne saranno altre ma io per ora ho trovato solo questo allora io sicuramente è già stato detto ma vorrei chiudere con una nota che mi sta molto a cuore parlando alla commissione parlamentare infanzia allora sarà stato detto sicuramente dal dottor Nigri l'abuso all'infanzia l'abuso online è importante conseguenze gravi turismo sessuale è importante la prostituzione minorile è importante ma io vorrei ricordare che il vero problema oggi in Italia che dobbiamo affrontare con estrema difficoltà è l'abuso ai minori inteso come definito dalla definizione dell'OMS del 2002 quindi ogni forma di abuso fisico sessuale psicologico di trascuratezza che avvenga in un rapporto di responsabilità di fiducia di potere quindi l'abusante non è il pedofilo l'abusante non è l'estraneo non è l'adescatore online in questo tipo di abuso di cui io vi voglio parlare brevemente è un familiare immaginate che cosa significa per un bambino sarà stato già detto trovare violenza da chi dovrebbe offrirgli protezione immaginate la sofferenza sofferenza che dura tantissimo perché noi non siamo in grado ancora di contrastare questo fenomeno e se ne parlare vent'anni anche di più ed è un problema che non è sociale come si pensava una volta è di salute perché adesso vi farò vedere con una diapositiva quanti danni alla salute provoca interrompetemi quando volete quindi è stato dichiarato dall'OMS un problema prioritario di salute pubblica sappiamo quali sono le dimensioni del fenomeno in Italia purtroppo non c'è un registro nazionale che sarebbe indispensabile e io ve lo chiedo perché noi che lavoriamo sul territorio ne abbiamo bisogno i dati sono fondamentali in Italia i dati derivano da studi su popolazione fatti con progetti ad hoc questo è l'ultimo lo conoscerete sicuramente è la ricerca fatta da Terre des Sommes e Cismai sotto legida del precedente garante dell'infanzia su un bacino di 2-4 milioni di residenti in Italia 251 comuni sono il 25% dei minori del territorio nazionale la prevalenza è dello 0,9% con un 4% di questo 0,9% vittime di abuso sessuale ma questi dati sono stimati vi faccio vi sottolino per chi non è medico che 0,9% non è così bassa se viene confrontata con la prevalenza di tumori che sono 100 volte minori come prevalenza del diabete che è la metà della sindrome di Down tutte malattie patologie per cui è dedicata molta più attenzione ci sono congressi ci sono corsi di formazione riviste l'abuso no e non solo ma questo 0,9% è sottostimato come dimostrano gli studi di self report alcuni italiani modesti ma insomma su 3.000 giovani adulti e questi dati italiani sono diciamo confermati dalla letteratura internazionale che pensa e sottolinea che addirittura pensate la sotto rilevazione di 75 volte per il maltrattamento fisico e di 30 volte per l'abuso sessuale pensate che peso mostruoso allora queste sono le conseguenze sulla salute della violenza sui minori parliamo di conseguenze dirette che arrivano alla morte nell'abuso fisico parliamo di conseguenze gravi sulla salute mentale e parliamo anche di conseguenze su comportamenti a rischio con quello che comportano e quindi obesità diabete malattie costo sociale altissimo allora per chiudere e questa è veramente l'ultima l'abuso l'abuso tradizionalmente inteso è una patologia frequente perché l'1% è sottostimato grave perché come diceva il dottor Nigri è una patologia cronica dall'abuso non si guarisce la diagnosi l'intervento riducono il danno ma nulla nulla non ci sono le prove e ad elevato rischio di ricorrenza questo è un dato molto importante perché i bambini abusati da piccoli spesso diventano genitori abusanti e quindi l'abuso si trasmette con una frequenza superiore alle malattie autosomiche recessive gravissimo perché il danno si protrae per generazioni allora questa la frequenza la gravità il rischio di ricorrenza come sapete meglio di me sono gli indicatori su quali ci si basa per stabilire le priorità di intervento se così è l'abuso è degno di essere definita una patologia con priorità di intervento e quindi ci obbliga ad occuparcene scusate sono rubato tre minuti grazie alla dottoressa Berardi referente per l'associazione culturale pediatri italiani dichiaro quindi aperto il dibattito se ci sono interventi da parte dei colleghi prego a voi la parola senatrice Binetti e senatrice Bini e Boldrini chiedo scusa grazie a tutti gli intervenuti per le relazioni molto attente molto precise e che di fatto confermano tanti dati che questi giorni che stiamo seguendo questa indagine conoscitiva vengono anche da altre fonti e da altre diciamo anche con un taglio diverso abbiamo sentito i super big della tecnologia abbiamo sentito la polizia postale e di fatto i dati convergono che è un elemento di rinforzo molto importante ma proprio pensando di parlare ai pediatri e anche attingendo alcuni casi concreti e particolari di soggetti abusati e abusati da figure molto familiari e quindi anche con una coabitazione o perlomeno con una prossimità molto forte quello che stupisce è la lunga sequela dei fatti di sofferenza fisica quindi anche specificatamente di competenza del pediatra per i quali c'è un tempo di assistenza infinitamente lungo adesso voglio essere molto concreta per esempio casi in questo caso specifico in mente casi di ragazzine in casa famiglia in cui l'allontanamento dopo una lunga forma di frequentazione e di abuso ha creato disturbi che vanno dalla amenorrea ai disturbi del comportamento alimentare a sindrome di ansia e anche quindi anche con difficoltà a misurarsi con i percorsi scolastici tu ti rendi conto che quella sindrome di competenza strettamente clinica quindi in questo caso strettamente del pediatra non viene assunta da una figura di riferimento sufficientemente forte strutturata e stabile il che si traduce in una sorta di patologia secondaria che si innesta sull'abuso prioritario la seconda cosa che mi sembra interessante è la microsintomatologia che invece appare in forma più sintomatologia quando il bambino è ancora in famiglia e che comunque si traduce il bambino che non mangia il bambino che non dorme il bambino che vomita il bambino che ha mal di pancia non sto qui a dirla a voi perché effettivamente è una sintomatologia e la difficoltà a evidenziare la componente chiamiamola così psicologica ed emotiva del bambino e quindi la difficoltà a metterlo in condizione di esternare quindi sia l'intervento il più precoce possibile quando il bambino comincia a star male e non si sa che cosa ha sia l'intervento successivo quando si sa che cosa è successo ma non si riesce seppure a partire dall'esperienza fisica dall'esperienza clinica a prendere in mano diciamo la situazione complessiva del ragazzo per quella che io chiamerei una sorta di consolidamento della sua identità di ricostruzione di questa identità per cui è come se dopo noi diventassimo complici di una terza forma di abuso e quindi volevo sapere che cosa si può fare grazie grazie alla senatrice Binetti la senatrice Boldrini chiedo scusa prima complice Binetti da una parte Bini seduta accanto a lei ho fatto una crasi tra le due cose grazie nessun problema presidente io ringrazio tutti e tre i professionisti che sono venuti oggi in audizione perché hanno posto l'attenzione su temi che sono veramente importanti e che sono la base di un proseguo della nostra società perché parlando di bambini parliamo ovviamente di quelli che diventeranno gli adulti del futuro e se siamo in questi termini ho qualche problemino me lo sto cominciando a porre tanto non solo solo da oggi ma tanto perché se non mettiamo mano subito è vero ci sono delle norme ma come ben sappiamo le norme stanno sulla carta se poi qualcuno non le applica non succede niente noi possiamo fare le leggi più belle del mondo ma bisogna comunque monitorarle e mi riferisco soprattutto al fatto che innanzitutto condivido che non devono essere fatti dei programmi spot perché non servono a nulla servono nell'immediato in quell'istante dove ci sono determinati insegnanti e con i ragazzi ma poi dopo passando gli anni passano i ragazzi gli altri non ne possono più usufruire e via andare è posto che secondo me all'attenzione dobbiamo porre soprattutto la parte adulta che si deve gestire con i bambini perché anche fare lezioni sicuramente va bene i ragazzi il cyberbullying ma così ma sono soprattutto gli insegnanti gli insegnanti che devono avere questa formazione e anche i genitori io addirittura sto pensando che a mio parere sarebbe utile cominciare a formare i genitori prima ancora che vi diventino perché quando sono già genitori si trovano in un marasma importante sto pensando soprattutto appunto donne che si trovano ad avere figli con tutto il marasma di problemi che ci sono e avere comunque anche una formazione specifica di che cosa vuol dire diventare genitori perché secondo me tanti ragazzi giovani e io lo dico perché ho un'esperienza diretta di un caso non si rendono conto di che cosa sta succedendo l'altra cosa che a mio parere diventano anche problemi giuridici perché dicevano ricordo forse il professor Villani il riconoscere il riconoscere la violenza anche voi arrivate ma c'è già stato l'abuso parlando di violenza purtroppo più materiale quindi non quella online che farà meno male fisicamente ma fa male lo stesso psicologicamente lì una conoscenza la conoscenza anche del medico che non sa a mio parere sì anche il medico deve riconoscere ma ricordiamolo che anche nella violenza delle donne nessuno lo riconosce perché giustamente come diceva la dottoressa è un problema di salute è una salute che viene a mancare perché quando c'è la bozza che sembra essere una caduta magari giustificata come caduta invece dietro c'è ben dell'altro e quindi problemi del lavoro problemi quindi questa persona deve essere aiutata in tutto tondo io sono per la presa in carico in maniera olistica della persona perché non è solo la battuta o il libido che si vede è tutto il resto che ci deve essere quindi un problema secondo me anche dal punto di vista poi un'altra cosa che ho notato e che volevo sapere il vostro il vostro pensiero il fatto che spesso quando ci sono anche delle violenze familiari e i bambini assistono alla violenza l'avete detto voi l'assistenza il bambino che è assistito poi dopo ne segue insomma la conseguenza negli anni io mi auguro che la resilienza vinca che non sia per tutta la vita e mi auguro ho sentito altri convegni dove per fortuna alcuni professori dicevano che opportunatamente aiutate queste persone poi superano il problema ma è un problema anche della presa in carico nel caso in cui c'è la violenza i bambini vengono allontanati in casa famiglia con la madre e poi dopo però non c'è un'immediatezza non c'è una presa in carico anche cui io mi aspetto che ci sia più competenza e purtroppo il fatto che comunque l'assistente sociale è slegato dalla parte sanitaria non si parlano e quindi non si riesce a capire gli uni con gli altri che cosa sta succedendo perché l'assistente sanitaria si preoccupa del problema dell'allontanamento metterlo nella casa famiglia in più un altro problema che vi sottopongo il tema delle case famiglie devono essere accreditate ci devono essere comunque delle competenze all'interno perché il tema dal punto di vista psicologico e quindi della presa in carico anche in quel senso lì è scivolosissimo scivolosissimo veramente tra l'altro io vengo da una terra insomma anche il collega patriarca dove c'è stato quel caso che voi avete sentito veleno quel caso che è ritornato agli onori della cronaca di allontanamento di bambini laddove comunque purtroppo pare perché dopo lì c'è la magistratura c'è la giustizia che farà il suo corso c'è stato anche una sorta di come posso dire ulteriore abuso di informazioni di portare i bambini a dire cose che non erano vere quindi è un problema anche di come si fanno poi i processi ce ne sono tanti di problemi secondo me uno dentro l'altro uno dentro l'altro quindi se noi vogliamo prendere in mano questa situazione dobbiamo sviscerare punto per punto una sorta di legge quadro chiamatela come volete dove si affronta l'abuso dove si affrontano gli allontanamenti dove si affrontano tutte queste cose e soprattutto l'educazione anche ai genitori prima che diventino genitori perché spesso si trovano genitori mi viene a dire che chi fa la richiesta di adozione passa una pletora di esami prove via dicendo per vedere se può diventare genitore viva Dio che è la cosa più naturale di questo mondo forse adesso abbiamo anche bisogno di sapere chi vuole diventare genitore come lo deve fare con quali preparazioni non ci sono più le nonne che ci insegnano le madri quindi credo che davvero bisogna avere un ritornare a fare quelle cose che si facevano ma con gli occhi ovviamente rivolti verso il futuro perché io non è che voglio tornare indietro attenzione non prendetemi per una che è occhi al futuro perché noi dobbiamo convivere con la tecnologia perché la tecnologia fa passi da gigante ma nel bene però bisogna dare anche comunque la possibilità di avere l'accortezza di non cadere nella tecnologia e quindi ci vuole un senso critico ci vuole un rafforzamento del carattere delle persone quindi attenzione a tutte queste cose ma tutte in fila perché una da sola non può fare secondo me ma volevo il vostro parere grazie alla senatrice Boldrini ha chiesto di intervenire anche l'onorevole Spena prego buongiorno chiedo scusa se non ho seguito tutti i vostri interventi ma quelli che dei colleghi che mi hanno preceduto mi hanno chiarito alcuni alcuni aspetti anche perché nella prossima settimana andrà in discussione alla Camera una mia mozione ma a questo punto penso che un po' tutte quante le forze politiche in aula presenteranno una propria mozione che è proprio sulla violenza sui minori tra le mura domestiche perché ultimamente abbiamo abbiamo vissuto dei casi in cui i bambini sono stati dico proprio una parola forte ma torturati all'interno delle mura domestiche da da quei genitori dal compagno della madre piuttosto che con la complicità di uno dei due insomma arrivando fino fino purtroppo alla scomparsa quindi ci hanno negato della insomma della felicità di avere dei bambini al nostro al nostro fianco e quindi questa diciamo mi fa piacere iniziare anche questo percorso qui nella in questa in questa commissione parlamentare che ci vede sicuramente uniti su questo su questo tema che comporta una grossa un grosso coinvolgimento emotivo una grossa sensibilità quindi noi come come cittadini come genitori ma anche come parlamentare credo che abbiamo l'obbligo di affrontare questo questo tema che fino ad oggi insomma l'abbiamo più letto e ascoltato tra insomma i programmi televisivi che affrontarlo nelle aule parlamentari quindi ecco bene che che si inizi proprio proprio da qui a parlarne e perché credo che anche voi come come professionisti come pediatri siate un po' il nostro il nostro primo intervento quindi sicuramente volevo sapere anche un po' della vostra della vostra esperienza quello che vi è capitato nel vedere bambini abusati malmenati quindi con delle ferite che si portano addosso ferite che erano state viste anche da alcune maestre sappiamo che tutto ciò quello che è accaduto ha accardito quindi diciamo che c'è anche forse dobbiamo educare e dobbiamo seguire sì le giovani madri che casomai si affacciano a questo mondo di genitore quindi vanno sicuramente sostenute così ma così come avviene in tutti gli altri paesi d'Europa cioè quando sì per esempio a Londra faccio un esempio perché ho un'amica che ha partorito che ha partorito qua il giorno dopo si va a casa però nei giorni successivi vengono sostenute nella propria casa e vengono fatte tantissime domande anche in merito insomma al proprio stato di salute anche insomma psicologico perché molte di queste mamme giovani soprattutto possono andare in depressione e quindi violare insomma del fare violenza sui propri bambini comunque la sensibilizzazione è fondamentale l'informazione è fondamentale e soprattutto quello di cercare di sensibilizzare il resto della cittadinanza sull'importanza di denunciare subito noi così quando sappiamo di una violenza su una donna così quando vediamo la violenza perpetrata anche nei confronti dei nostri animali domestici e quant'altro noi dobbiamo avere il coraggio di andare a denunciare immediatamente quando sappiamo anche il vicino di casa che sento un bambino continuamente piangere quel padre che ha bruciato i piedi del bambino insomma in quel caso il bambino penso che abbia sofferto abbia pianto in continuazione quindi perché il vicino di casa casomai non si è allarmato e non ha avvisato le forze dall'ordine perché casomai alcuni servizi sociali così come come gli ospedali non avvisano prontamente quando una madre va lì a curarsi della depressione e quant'altro e sapendo che quella è la madre di un bambino che non può esprimersi che non ha la possibilità di esprimere il proprio stato di dolore ecco quindi dobbiamo fare dobbiamo fare rete parlava bene le prima dottoressa di un osservatorio quindi di una raccolta dati che faccia anche rete ecco quindi da questa da questa mozione credo che poi potranno seguire anche delle proposte più incisive in merito quindi ecco credo che il dovere della politica sia affrontare quella della violenza sui minori tra le mura domestiche grazie io volevo dire una battuta dopo su questo grazie al Revole Spena sei iscritto a parlare il senatore Patriarca prego sì grazie presidente grazie anche ai relatori volevo soltanto così mettere a fuoco alcune alcuni punti che un po' in qualche modo ho anche vissuto nella precedente stagione facendo svolgendo compito di preside e anche professore alle superiori allora se è vero che dall'abuso si lascia si viene segnati per profondamente nella vita poi auspicabilmente se se ne esce siamo siamo tutti ben felici se è vero che è questo che l'abuso lascia una traccia profonda io domandavo se il tema non sia allora quindi della prevenzione cioè di una piuttosto che agire dopo il tema di come oggi si riesca ad attivare una rete di prevenzione ora noi abbiamo vissuto una stagione penso agli anni 90 io un po' l'ho vissuto anche prima persona in cui si parlava molto di comunità educante nella scuola si parlava di progetto giovani progetto genitori io ero coordinatore nella mia provincia per anni ho seguito questa vicenda si parlava molto anche con gli enti locali si parlava anche molto con l'associazionismo educativo quello familiare ecco allora mi chiedevo se perché questo mi impongo sempre in questa posizione se sul territorio nei territori abbiamo delle esperienze che in qualche modo possono aiutarci non soltanto ad analizzare il fenomeno io sono grato per i dati tutto quello che ci fornite ma anche provare a lavorare in positivo e cioè dire ma in alcuni territori abbiamo delle buone pratiche come oggi si dice che viene nelle quali si recupera la comunità l'urgenza di mettere al primo posto i bambini che sono il nostro futuro la integrazione dei servizi la comunicazione pur rispettando il principio di sussiderietà ecco io mi domandavo se ci sono nel nostro paese esperienze che possono essere anche proposte cioè se nella vostra esperienza un po' girovagando immagino l'Italia come accade a molti di noi possiamo anche dirci magari in una prossima audizione dire guardate in quella provincia in quella città in quel paese sono riuscite a mettere sistema una comunità che mette un faro permanente permanente non casuale sui bambini ecco io le chiedevo se questo è un po' c'è perché io vorrei proprio tentare anche di capire se possiamo raccontarci ogni tanto le cose buone che stanno accadendo perché dico soltanto analizzare le cose drammatiche a volte è importantissimo perché si fanno le leggi anche per questo ma anche si possono fare le leggi anche per dire lì sta accadendo questo quindi quel modello può diventare assumere una struttura diciamo di proposte per tutto il paese e l'ultima cosa che chiedo su questo fronte chiedevo questo perché poi la rete e le comunità hanno bisogno poi di un centro di gravità permanente di l'allabattiato cioè ci vuole un po' qualcuno che in qualche modo governi il sistema che dica un po' quello che sta accadendo che tenga le fila ecco chiedevo sono gli enti locali io dico di sì se sono loro se sono loro questo vuol dire culturalmente anche attrezzarsi per svolgere questa funzione con competenze anche con risorse mi pare che oggi questa funzione diciamo non di governo assoluto sul sistema perché la scuola ha la sua indipendenza le associazioni familiari hanno la loro vita le associazioni educative altrettanto penso alle associazioni sportive che svolgono un ruolo importante ecco questo governo che mette al centro il bambino le bambine se non possa essere riproposto in maniera più chiara e forte agli enti locali con questa accezione diciamo sussidiaria di un ente locale che a cuore è la rete mi domandavo anche qui in termini di strumentazione se possiamo agire anche con la norma con la legge se potremmo in qualche modo focalizzare meglio e puntualizzare meglio questa dimensione grazie grazie al senatore patriarca sei iscritto a parlare l'onorevole Siani poi c'è la senatrice Bini ci sono poi altri interventi ok allora questi due prego l'onorevole Siani grazie molto presidente grazie ai professionisti grazie del tempo che ci avete dato stamattina comprendendo bene i vostri impegni quindi vi ringrazio davvero molto vorrei diciamo invitare il presidente a raccogliere l'invito che oggi abbiamo dai professionisti che si occupano di bambini malati e sani loro ci hanno detto due cose decisive dal mio punto di vista ci hanno detto vogliamo interventi che siano strutturati organizzati e duraturi e ci hanno detto manca un registro nazionale per cui i dati che noi riportiamo sono dati che noi ricaviamo da altri studi ora io chiedo al presidente che la commissione si faccia carico di queste richieste e che le emozioni che presenteremo in aula la prossima settimana faranno sicuramente di istituire un registro nazionale per la violenza sui minori e di istituire un coordinamento in cui ci siano tutte le professionalità che si occupano di bambini che studiano il fenomeno perché guardate bisogna anche saperlo giustamente studiare conoscere fare prevenzione non è il bambino ma è la famiglia cioè creare un qualcosa che diventi strutturato per i prossimi dieci anni per capire il fenomeno e per intervenire sul fenomeno non solo quando si è manifestato ma anche in prevenzione perché vi hanno detto benissimo questa è una malattia molto più grave della leucemia la leucemia guarisce questo no e dobbiamo quindi farcene carico quindi io chiedo al presidente di farsi carico di queste richieste che abbiamo avuto oggi dai tre professionisti perché posso la commissione chiedere questa istituzione di due organismi il registro nazionale e un osservatorio unico che coinvolga tutti i professionisti che si occupano della salute dei bambini grazie grazie di uffici avevo un altro impegno precedente già preso e quindi mi sono persa una relazione iniziale il senatore patriarca ha diciamo anticipato quello che era mio intento dire perché alla fine la questione che io ritengo fondamentale è che nell'ascoltare le vostre testimonianze nell'ascoltare i dati che ci portate poi toccano la coscienza di ognuno di noi fanno venire alla mente ricordi di persone che ci hanno raccontato casi analoghi o cose che abbiamo letto sulla stampa eccetera però il tema è nel momento in cui noi facciamo una legge sanzionatoria o comunque repressiva eccetera siamo già sconfitti sì facciamo pagare chi ha commesso un reato e un danno grosso e questo è comunque giusto perché va fatto ma nei fatti qualcuno è già stato abusato e non siamo stati in grado di agire prima ecco io sento molto forte questa ansia alla quale non è facile dare delle risposte ma riuscire in qualche modo a immaginare anche grazie al vostro aiuto come al di là della parte diciamo più di giustizia che è comunque importante affrontare eccetera possiamo in qualche modo agire su tutta la parte preventiva possiamo agire per un controllo più capillare per un monitoraggio più attento per essere in grado di interpretare i primi segnali una butade messa lì mi veniva in mente non so se magari i casi di questo tipo già esistono ma iniziare fin dai tempi dell'asilo chiaramente per queste cose ci voglio risorse ma se si sa che una forma può essere giusta poi il nostro impegno è anche provare in qualche modo a incidere politicamente per metterle lì invece che da un'altra parte a monitorare questionario a far fare disegni specifici studiate da professionisti a bambini fin dalla scuola materna o dal periodo del nido per intercettare possibili segnali di disagio eccetera oppure altre tipologie di forme di verifica di monitoraggio perché chiaramente specialmente sulla rete siamo tutti più scoperti io lo dicevo in un'altra audizione comunque quando eravamo piccoli noi ci dicevano se vai fuori e qualcuno ti parla te non ti avvicinare agli sconosciuti oggi su questa roba non abbiamo più rete nel senso che quando il bambino è sul divano e magari lo pensiamo diciamo al sicuro nei fatti può essere quello sconosciuto che in qualche modo da piccoli ci consigliavano di non avvicinare quindi da tutta questa roba la mia domanda che so può essere una domanda molto complessa e avete qualche idea di come riusciamo ad agire in precedenza piuttosto che domani grazie alla senatrice Bini vorrei anche io fare qualche breve considerazione considerando poi che sono le 9.25 a 9.30 il senato comincia la seduta le domande che vi sono state poste saranno nuovamente ritrascritte le riceverete sulle vostre email e avrete la possibilità di rispondere argomentando nel dettaglio ma adesso non voglio sacrificare in un minuto risposte che meritano ben ampio respiro mi permetto di aggiungere alle considerazioni che condivido dei colleghi che già si sono espressi anche io qualche considerazione intanto vi ringrazio ringrazio ciascuno di voi per il tempo che ci avete concesso e per le considerazioni che ci avete offerto in particolare mi riferisco a quanto affermato dal dottor Villani che ha parlato di maternità di recupero della maternità eccetera immagino che lo stesso vaga anche per la paternità sa va a san dir non lo dico neanche cioè il recupero delle figure genitoriali in buona sostanza ringrazio il professor Nigri perché ci ha ricordato che il problema fondamentale che stiamo vivendo dal punto di vista antropologico è la caduta dei valori la caduta dei valori della famiglia la caduta dei valori conseguentemente nella società quindi se è vero da una parte che noi dobbiamo e quindi condivido il fatto di dover intervenire il fatto di dover monitorare il fatto di dover prevenire ma non ci dobbiamo dimenticare che se una cultura più in generale diciamo è diventata terreno di cultura per determinate forme di disinteresse di disimpegno di egoismo poi non è che con un intervento a spot riusciamo a salvare i bambini da questo tipo di cultura il lavoro va fatto dal punto di vista molto più ampio cioè recuperare quella condivisione quella relazionalità che era diciamo scontata positivamente scontata in una società fondata diciamo sul modello familiare quindi questo è un passaggio che ho particolarmente apprezzato come pure ho molto apprezzato il fatto che non si siano voluti negli esempi che sono stati posti da dottor Nigri fare riferimenti alla violenza di serie A e non alla violenza di serie B perché purtroppo anche quando andiamo a classificare le forme di violenza sui minori sembra quasi che una certa lettura un po' ideologica porti un tipo di violenza ad essere sempre e comunque da sanzionare e un altro tipo di violenza un pochino sulla quale si può chiudere un occhio mi riferisco invece al fatto che il dottor Nigri ha correttamente parlato del fatto che è tanto violenza quando il bambino viene sottoposto a percosse oppure assiste alla violenza contro la madre quanto è violenza quando viene trascinato nella caserma dei carabinieri perché magari il padre l'ha riconsegnato 5 minuti di ritardo quindi è importante che recuperiamo questa visione a 360 gradi perché purtroppo le condotte egoistiche degli adulti sono figlie come dicevo di una impostazione che colpisce sia l'uno che l'altro genitore e non genericamente rifuggo più in generale però mi correggerete se sbaglio nelle vostre risposte da una concezione che alcuni media stanno tentando di veicolare che è quella della famiglia luogo della violenza usciamo per piacere almeno credo sia il caso di uscire da questo tipo di interpretazione la famiglia che funziona bene è il luogo che protegge dalla violenza quando invece la famiglia funziona male allora dobbiamo intervenire ma la salvaguardia della famiglia che funziona bene è forse la vera risposta che possiamo dare alla domanda di fondo perché se vogliamo proteggere è una domanda la mia credo sia legittima e loro potranno rispondere per iscritto dicendo che secondo voi magari non è vero invece io sono persuaso che sia così mi direte dal vostro autorevole punto di vista se quella che è la mia domanda è posta nei termini corretti la famiglia che funziona protegge dalla violenza allora la risposta potrebbe essere sostenere quella famiglia qualcuno ha detto non mi ricordo la collega forse no la collega spena dobbiamo intervenire per aiutare i genitori a fare i genitori addirittura scuole di genitorialità in Francia voi sapete avete detto un po' tutti l'Ecole des Parans la scuola di genitorialità è ormai una necessità perché si è perso nel tessuto sociale francese la capacità di essere genitori in modo autonomi e forse lo si è perso perché i genitori a propria volta non sono stati in grado di trasmettere quella modalità di essere genitore quindi diciamo la generazione precedente e d'altronde fino ad oggi a meno di un'università per papà e mamme si impara ad essere genitori sostanzialmente apprendendolo da modelli quindi normalmente dai propri genitori oppure da figure simili dai propri nonni dallo zio dalla zia dalla nonna dal genitore del vicino di casa quello che è stata una forma di apprensione della genitorialità direi trasmessa di padre in figlio è in una misura saltata o sta saltando e questo è un problema serio quindi anche su questo chiedo come voi pensate di poter intervenire mi fermo qua perché il tempo è scaduto vi prego però siccome appunto la discussione cominciava a diventare interessante di volerci far avere le vostre notazioni in materia e vi ringrazio per l'audizione prima di andarcene però vorrei con i commissari sollevare una questione sulla quale chiedo alla commissione di esprimersi voi sapete che ieri la garante per l'infanzia ha presentato la relazione annuale alla camera dei deputati molti di noi del senato eravamo purtroppo impediti a parteciparvi in quanto vi era una seduta con votazione resta d'accordo eventualmente a chiedere alla garante dell'infanzia di voler venire in commissione a riferire i contenuti onde poter fare poi una discussione un dibattito su questo tema allora quindi se la commissione concorda io ho domandato agli uffici di chiedere al garante dell'infanzia di voler fissare quanto prima una seduta per poter appunto permettere alla commissione di confrontarsi con lei su prego senatore patriarca c'è un documento e c'è anche il video sì magari se gli uffici lo trasmettono a tutti i commissari ah è solo cartaceo scusate un attimo solo per piacere allora mi dicono gli uffici che è disponibile un link sul quale è possibile scaricare io però ho anche ricevuto molto più banalmente via whatsapp il link al video e me lo sono guardato quindi se vuole se vuole collega mando volentieri questo link scusi posso fare un'osservazione presidente mi spiace l'audizione è conclusa ma è una cosa puntuale volevo solo dire che sono molto stupita della sensibilità dei politici la ringrazio noi abbiamo il materiale loro hanno la sensibilità basta unirci no io la ringrazio molto ma ecco mi spiace confinare purtroppo pensavo che fosse più operativa siamo in questa spiacevolissima situazione per cui ci ritagliano sempre tempi strettissimi essendo una bicamerale dobbiamo farli coincidere staremmo qua tutte le mattine ore ed ore quindi io adesso devo formalmente ringraziare gli auditi di chi era chiuso la riduzione togliere la seduta e così faccio adesso che la seduta è tolta possiamo appoggiare